Ora si registrerà la conferenza. A questo riguardo avremo quindi un video messaggio del presidente della provincia di Brescia, Samuel Alghisi, che visualizziamo all'inizio dei lavori. Prima di iniziare un paio di note sull'utilizzo di questa piattaforma dovreste vedere sulla vostra destra che avete la possibilità di fare delle domande in una chat, fare direttamente il relatorio pubblico e quindi si può assolutamente interagire in qualsiasi momento. Domande e quesiti sono più che benvenuti e quindi vi invito assolutamente se avete delle domande, delle curiosità, a porli e troveremo il tempo di rispondere immediatamente un attimino dopo che la domanda è stata posta. Cosa vedremo oggi? Quindi come l'agenda di oggi? Quindi come accennavo prima, un messaggio del presidente della provincia, dopodiché parlerà Giancarlo Turati, CEO di Fasternet, seguirà Quarantini Mauro, amministratore delegato di SECOP, a seguire l'ingegnere Pierpaolo Palazzoli, responsabile di A2A Smart City Lab e poi l'ingegnere Bonetti del CSMT, l'area Project Funding. Quindi vedremo le tecnologie disponibili, le applicazioni delle tecnologie disponibili e infine eventuali strumenti finanziari a disposizione in questo momento per poter integrare queste soluzioni all'interno della propria azienda, della propria realtà, della propria amministrazione. Quindi possiamo partire con il video di Samuele Alghisi, presidente. Dura pochi minuti. No, potendo essere presente, per questo importante evento ho voluto lo stesso portare il mio saluto e quello dell'amministrazione provinciale. In questo periodo di emergenza sanitaria, la provincia è stata molto vicina agli antilocali e alla pubblica amministrazione, anche grazie al proprio centro di innovazione tecnologica che ha garantito un supporto costantemente alle amministrazioni locali. La verità, il supporto è andato su molte linee. Abbiamo garantito un supporto dal punto di vista all'imministrativo, l'abbiamo garantito un supporto anche dal punto di vista della consulenza tecnica agli enti locali. In questo periodo di innovazione tecnologica, che ha messo a punto la provincia di Brescia, ha potuto garantire anche l'esecuzione di gare di grande importanza per diversi milioni di euro. Tutte gestite anche attraverso le modalità di apertura delle busche telematiche a distanza, non è un'innovazione dal punto di vista tecnologico, ma un'innovazione dal punto di vista dell'applicazione delle tecnologie che la provincia di Brescia ha appunto portato avanti. Oltre a questo, la provincia di Brescia in questo momento è anche un esempio, nei confronti di molte altre amministrazioni anche a livello italiano, per la capacità di poter incontrare con partner tecnologici e con partner amministrativi anche di livello europeo su dei progetti liberamente di grande portata nel numero soltanto qualcuno per non andare troppo nel dettaglio. Ci sono i progetti relativi alla Smart City, ci sono quelli relativi all'infrastratura digitale abilitata ai Wi-Fi, ci sono i progetti dei servizi dell'Internet of Things, ci sono tutti i servizi legati all'innovazione tecnologica per l'illuminazione pubblica che la provincia di Brescia sta portando avanti con gli enti locali e che sta anche predisponendo sulla propria rete viabile, sulle proprie gallerie. C'è tutta l'attività che è stata intrapresa grazie anche alla relazione con partner di Paglipello, come per esempio la provincia di Cremona, per quanto riguarda l'attività progettuale. Da qualche tempo a questa parte la provincia di Brescia si è dotata della possibilità di fare delle progettazioni grazie a tecnologie laser scanner che producono modelli tridimensionali utilizzabili anche per delle verifiche dinamiche dei ponti piuttosto che per progettare in funzione dell'innovazione della rete infrastrutturale o anche del patrimonio edilizio. Stiamo cercando collaborazioni con partner che si occupano di innovazione per quanto riguarda l'efficientamento energetico degli edifici, del nostro patrimonio. Stiamo cercando relazioni con partner stranieri per poter introdurre tecnologie di gestione della viabilità pubblica, cosa che avverrà probabilmente nel prossimo futuro. Ma noi ci stiamo già lavorando, ci stiamo pensando. La provincia di Brescia sta garantendo tutte queste attività anche grazie alla sua predisposizione a fare l'accento di aggregazione per le esigenze, soprattutto dei territori della pubblica amministrazione. I partner privati, i partner che possono produrre soluzioni tecnologicamente avanzate, ma anche soluzioni che possono essere utili per la creazione di infrastrutture, che sono il presupposto per arrivare alle derivazioni tecnologiche e di attività, sono in questo momento fortemente favorite, credo, dall'apertura che molti enti, tra cui anche noi stiamo dando. Noi vogliamo garantire per il prossimo futuro, perché siamo convinti che dopo questo periodo non si tornerà a lavorare sicuramente come si stava lavorando prima, ma sicuramente non si tornerà più a pensare all'approccio nei differenti ambiti della pubblica amministrazione, verso l'utente, verso le altre amministrazioni, verso la comunicazione nel medesimo modo con cui siamo stati abituati a pensarlo fino ad oggi, ecco perché oggi è veramente importante cominciare a pianificare e progettare un futuro anche in un'ottica di visione. E quindi tutto ciò che riguarda sia l'apparato di sviluppo, sia per quanto riguarda la capacità proceduale degli enti e della capacità di contrarre delle relazioni per poter arrivare a delle soluzioni avanzate in ogni ambito di gestione della pubblica amministrazione, oggi dobbiamo cominciare a metterle sul tavolo, cominciare a sperimentarle, capirle e in qualche maniera prefigurarle. Io credo che l'attività che voi state svolgendo, che svolgerete nel ciclo di incontri che oggi si apre, sia proprio ideutica fondamentale per poter ripensare al nostro lavoro e alla nostra capacità di gestire e soprattutto per quanto ci riguarda il bene pubblico e il patrimonio pubblico. Grazie per il lavoro che state facendo, spero di poter rincontrare di persona e di persona. Ok, perfetto. Quindi parola mica sulle attività che la provincia di Bericcia sta svolgendo adesso di qui. Siamo contenti e soprattutto sottolineiamo anche il fatto di osservazione che è stata fatta, che quando ricomincieremo, adesso ripartiremo, sarà una partenza nuova e non un rifare le cose che facevamo prima. Quindi in quest'ottica è sicuramente interessante adesso l'intervento di Giancarlo Turati che ci spiegherà una visione di Fastnet della rete Iobo e delle attività che con essa si possono fare, che quindi saranno sicuramente utili in questa fase di ripresa dopo Covid. Prego. Eccomi, grazie. Buongiorno a tutti. Io sono Giancarlo Turati, sono amministratore delegato di Fastnet e faccio parte, sono tra i soci fondatori della rete d'impresa Iobo. Penso vediate le slide che abbiamo preparato che illustrano un po' quello che la nostra rete fa. Diciamo che Iobo parte con una rete d'impresa che vuole mettere insieme competenze, competenze nell'ambito digitale. Il nome, Iobo sta per Ionic Bond, vuol significare che quando gli elettroni si trovano e si attraggono tra di loro, furono dei legami che sono diversi rispetto precedenti e tendono a creare forme nuove, come cristalli per esempio. Questo è il nostro spirito, lo spirito della rete è quello di mettere in condivisione delle competenze. Le competenze servono perché abbiamo percepito che nel mondo digitale non si possa fare, non ci possono essere verticalizzazioni, spinte, ma si debba cercare un approccio che sia il più possibile dinamico e diffuso, anche perché è difficile accumulare tutta una serie di competenze all'interno di una sola impresa. Questo ha mosso le imprese di Iobo a trovare una forma di aggregazione, la forma di aggregazione che abbiamo scelto è quella della rete d'impresa perché è molto snella, lascia molta libertà alle aziende poi di perseguire i loro obiettivi, ma obbliga anche le aziende a condividere tutta una serie di obiettivi. Cello che noi sappiamo fare, diciamo, sono tante cose, però sostanzialmente ci muoviamo e ci focalizziamo su tre aspetti fondamentali, anzi probabilmente quattro. Vedo di riuscire a illustrarveli molto velocemente perché non voglio poi togliere spazio agli altri relatori che entreranno molto più di me nel merito del ragionamento, però ci siamo concentrati innanzitutto sulle forme di comunicazione digitale perché riteniamo che parlare la lingua del digitale sia fondamentale affinché tutti possano comprendere i concetti che vengono espressi e questo è il motivo per il quale noi abbiamo portato all'interno della rete un'azienda come Gotham di cui poi vedremo alcune slide. Fastnet che è la mia azienda, un'azienda che si occupa di tecnologia, sostanzialmente di tecnologia della rete, con una focalizzazione molto spinta sulla parte di cyber security che è un po' l'argomento di oggi. Noi abbiamo una visione un po' particolare della cyber security, oserei dire che l'abbiamo cominciata ad avere molto prima di tante persone e di tante aziende che si stanno muovendo in questo ambito. Noi pensiamo che sia necessario nell'ambito della sicurezza avere una visione unistica, cioè si debbano prendere in considerazione tantissimi aspetti, non solo e semplicemente quello tecnologico. Questo fa sì che noi ci orientiamo sugli aspetti legati alla consapevolezza delle persone che lavorano e oggi ancora di più, dopo il lockdown, lavorano da casa su supporti che spesso sono condivisi con altri. Siamo molto concentrati sugli aspetti legati all'operation, quindi all'OT, perché ormai la convergenza dei due mondi, IT e OT, fa sì che i rischi che normalmente nel mondo IT sono già stati presi in considerazione nel mondo OT che arriva dopo e non è abituato a valutare questo tipo di rischio, sono ancora molto presenti e quindi la convergenza tra OT e IT rappresenta un rischio per le aziende e va affrontato, e gli aspetti legati all'audit e al controllo, cioè quindi a tutte quelle misure che vengono messe in campo nelle aziende per presidiare i rischi e per attuare delle politiche di attenuazione degli stessi. Gotan City, ve l'ho già detto, è un'azienda sostanzialmente di comunicazione, noi su questo abbiamo puntato e devo dire che abbiamo avuto una buona idea perché si sono sviluppate tantissime attività che hanno coinvolto Gotan City nella nostra attività pur essendo Gotan City un'azienda che apparentemente non appartiene al mondo IT. La terza azienda che compone Iobo, ed è un'azienda di punta in questo momento, si chiama Gulliver, Gulliver sviluppa applicazioni, l'ultima applicazione che ha sviluppato Gulliver è un'applicazione che sta rispettendo un grandissimo successo e riguarda proprio tutta la parte relativa alla gestione del Covid, sia per quanto ottiene alle attività che vengono svolte a casa dei singoli o in azienda, sia per quanto riguarda il distanziamento sociale, quindi ci sono tutta una serie di strumenti che permettono di verificare la presenza di persone all'interno di ambienti, il numero delle persone all'interno di ambienti e quindi dare autorizzazione oppure no all'accesso a questi ambienti, la misura delle temperature, la gestione delle informazioni, tutta una suite di particolarità che fanno di questa applicazione un'applicazione che in questo momento sta rispettendo un grande successo e un grande interesse. Gulliver è un'azienda molto calata nel mondo digitale, sviluppa applicazioni sia su misura, quindi su richiesta del cliente, che attraverso una piattaforma che si chiama MDC, attraverso la quale possono essere sviluppate piattaforme di qualsiasi tipo. Devo dire che questa è stata per noi una grande soddisfazione all'interno della nostra rete, Gulliver è sicuramente un'azienda di grande successo. Oltre a Gulliver abbiamo 01, che è l'ultima delle aziende che in questo momento fanno parte della rete 01, è un'azienda che si occupa di servizi IT a tutto tondo, servizi che si possono esprimere attraverso l'utilizzo di un data center, attraverso l'utilizzo del cloud, attraverso applicazioni, con un call center, con tutto quello che serve per fornire servizi, diciamo di elaborazione dati all'interno del mondo di siti. Ecco, questa suite di aziende però non è chiusa e questo è un punto che vorrei mettere e sottolineare. In questo momento noi stiamo parlando con altre realtà che hanno chiesto di far parte della nostra rete. Non abbiamo nessuna intenzione di chiudere la rete ad altre realtà, anzi la vogliamo aprire, purché si resti all'interno di un contesto di digitalizzazione e soprattutto in un contesto valoriale che permette alle aziende di condividere quelli che sono gli obiettivi, le finalità e le mission. Ci siamo resi conto che se le aziende condividono questi aspetti le cose funzionano e quindi si possono sviluppare nuovi business, si possono sviluppare attenzioni, viceversa se non ci sono delle convergenze sugli aspetti dei valori che stanno all'interno delle aziende, probabilmente alla prima occasione tutto si sfalda. Per entrare un po' più nel merito del ragionamento odierno e vado a concludere, io penso che gli aspetti legati alla sicurezza debbano veramente essere visti come aspetti che coinvolgono tutto il nostro modo di essere a tutto tondo. Non è più possibile pensare alla parte di sicurezza relativa alle imprese, alla parte di sicurezza relativa ai dispositivi che le persone usano, alla parte di sicurezza relativa ai sensori che vengono utilizzati per l'IoT, alla parte di sicurezza che viene utilizzata per presidere i rischi all'interno dei dispositivi che ogni di noi usa. Dobbiamo cominciare a ragionare per avere un sistema che sia complessivo, cioè che tenga conto dei rischi a tutto tondo e su questi attui delle misure e soprattutto delle procedure che permettano di attenuare i rischi. Lo ricordo sempre a tutti, non è un problema di tecnologia perché se vogliamo scendere sul campo della tecnologia è una guerra destinata a essere persa puntualmente perché come si trova un dispositivo che possa attenuare i rischi, la controparte trova un sistema per forzarlo. Il punto di forza degli aspetti ormai consolidato, degli aspetti relativi alla sicurezza, è l'organizzazione, è la consapevolezza delle persone, sono gli strumenti di monitoraggio che permettono di avvertire e avvisare se vi sono all'interno della rete dei movimenti sospetti e su questi intervenire. Nell'ambito tecnologico relativo alle imprese, questo si traduce in una serie di attività e di soluzioni che debbano prendere in esame un po' tutti gli aspetti relativi all'azienda e ripeto ancora una volta, soprattutto sulla parte produzione, cioè tutta quella sensoristica che è stata messa in campo e verrà messa in campo ha una necessità, la qualità del dato. La qualità del dato deve garantire l'integrità, quindi il dato che io ricevo è un dato integro, non è stato alterato. La disponibilità vuol dire che quel dato deve arrivarmi in qualsiasi condizione, non posso pensare di non averlo altrimenti non posso prendere le decisioni che devo prendere o non posso mettere in moto gli attuatori che devono aprire o chiudere determinati aspetti e il dato deve essere disponibile quindi integro e soprattutto deve avere una qualità tale per cui io non possa pensare che sia stato alterato da malfunzionamenti della rete. L'IoT ha introdotto questi aspetti che sono fondamentali. Se io i dati di campo li devo prendere per utilizzarli, per prendere determinate decisioni o per dare autorizzazioni a degli elementi dei miei sistemi che debbano essere attivati, devo essere assolutamente certo che quel dato risponda alle caratteristiche che ho detto poco fa. E con questo concludo il mio intervento. Grazie. Grazie mille. Mi ha visto una bella overview anche delle tecnologie disponibili e dell'approccio a queste tecnologie. Passerei direttamente la parola a Mauro Quarantini, amministratore delegato di Secop. Chi ci farà già vedere ci parlerà di qualche applicazione reale di tecnologie che abbiamo finora nominato. Prego. Un saluto a tutti. Ti faccio una piccola correzione. Il cognome è Quartini, non Quarantini, ma figurati. Sostanzialmente mi presento, parto dal dirvi che sono l'amministratore delegato di un'impresa sociale che si chiama Secop, che è una cooperativa di tipo B che ha ovviamente la finalità di perseguire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. La nostra cooperativa occupa circa 120 dipendenti, svolge attività in diversi servizi che sono principalmente destinati a imprese multiutilitis e enti locali. Operiamo nei settori che sono il settore di segnaletica stradale, orizzontale, verticale, facciamo anche produzione di cartelli con certificazione di prodotto, installazione della segnaletica e facciamo questo servizio da 15 anni, il mercato di riferimento sono gli enti pubblici e le aziende private principalmente. Abbiamo un settore che si chiama Metering, che svolge attività di rilievo dei dati di lettura dei misuratori di consumo, facciamo manutenzione e sostituzione dei contatori di ogni genere, gas, acqua, energia elettrica e quindi abbiamo all'interno di questo settore dei turisti impiantisti, verificatori e idraulici. Abbiamo un settore di recapito postale con data e ora certa, recapitiamo prodotto postale di pari natura tra cui anche il prodotto delle raccomandate e della notifica degli atti giudiziari e amministrativi. Gli altri settori sono un settore che si occupa di gestione di parcheggi e tutti i servizi complementari, quindi i servizi degli ausiliari alla sosta, un settore dei piccole manutenzioni, un settore di tinteggiature civili e industriali e infine un settore che abbiamo chiamato settore servizi, che è un settore che collabora fortemente con le aziende private per l'erogazione di servizi esternalizzati a fronte delle stipule delle convenzioni articolo 14, ovvero l'obbligatorietà che hanno le aziende di essere sottemperanti rispetto all'assunzione dei disabili. Tutto questo ovviamente con un mercato che sappiamo bene evolve sempre, sempre più velocemente, con servizi che diventano sempre più ipertecnologici e la competizione sempre più forte e la cooperativa continua a cercare di mettere al centro della propria attenzione la persona provando ad accrescere il livello generale di competenza professionalità anche dei soggetti svantaggiati perché questa rimane la nostra mission. Prima di chiudere, vabbè, la cooperativa è dotata di una direzione tecnica, di una certificazione di qualità integrata, le certificazioni SOA, in regola con il decreto legislativo 231 ed è iscritta alla white list presso la prefettura di Brescia. Ho raccontato brevemente insomma quello che è SICOP considerando che ha quasi 25 anni di storia ma l'occasione della mia presenza oggi è per entrare un po' nel tema che è stato anticipato prima e che ci ha visto protagonisti nel senso che alla fine del 2018 quando venne pubblicata la graduatoria del bando voucher digitali 4.0 all'interno del quale SICOP aveva presentato il progetto IOS e qui aveva partecipato con le cooperative RG45 e il GELSO, questo bando ci classificamo al primo posto rispetto a questo bando. L'origine del progetto quindi trova riscontro in incontri mirati allo sviluppo di progetti innovativi attraverso un modello di networking con gli attori chiave del nostro territorio nonché partner del progetto quindi parlo di A2A Smart City, parlo della provincia di Brescia oltre ovviamente a tutta quella che è stata la parte consulenziale di CSMT anche in qualità di soggetto proponente su quel bando. Il progetto mirava ad applicare le tecnologie digitali alle imprese del terzo settore con lo scopo di sviluppare quindi l'utilizzo di competenze innovative, accrescere la competitività delle realtà coinvolte e creare opportunità per servizi innovativi alle persone al territorio, a supporto peraltro quindi della pubblica amministrazione. Abbiamo così promosso un progetto pilota di sensorizzazione di dieci pali di segnaletica verticale rendendoli smart utilizzando la tecnologia digitale LoraOne offerta da A2A Smart City con la finalità di raccogliere un insieme di dati integrati relativi alla temperatura del suolo, alla rotazione, all'inclinazione o all'eventuale abbattimento dei segnali e dove tutta la parte preliminare, quindi parlo di progettazione della rete di trasmissione caratteristiche dei sensori, verifica copertura e tecnologia è stata curata da A2A Smart City. In sede di sperimentazione come abbiamo proceduto? Ho contattato i dirigenti degli uffici tecnici di tre amministrazioni comunali con le quali avevamo in essere collaborazioni la proposta di avviare il progetto ha trovato fin da subito un riscontro positivo e soprattutto grande interesse in quanto è apparsa da subito come qualcosa di nuovo ed interessante ed innovativo soprattutto in un settore come quello della segnaletica perché partiamo da un presupposto che il concetto di segnaletica stradale ancora oggi viene spesso concepito dall'amministrazione comunale come una mera gestione di servizi e la maggioranza delle gare di segnaletica infatti non contemplano offerte tecniche, non è presente un'idea strutturata di monitoraggio e gestione quindi abbiamo portato un elemento innovativo all'interno di un mercato che oggi non ha mai sostanzialmente che oggi non ha avuto elementi significativi dal punto di vista innovativo parlo soprattutto del nostro territorio italiano. È proprio per questo che la digitalizzazione dei servizi è quindi una trasformazione che segna nuovi sistemi produttivi, nuovi modelli di business che sono più veloci e efficienti e che devono essere raccontati, proposti e poi commercializzati. Risultati attesi di questo progetto sperimentale per il progetto pilota, le attese legate al progetto quindi erano riconducibili ovviamente alla scalabilità su larga scala, all'eventuale trasferibilità su sistemi, su altre tipologie anche di servizi eventualmente e l'interesse della pubblica amministrazione alla condivisione e sviluppo di ulteriori servizi. Il progetto per quel che mi riguarda è apparso assolutamente scalabile ed in evoluzione ci dovrà portare quindi a perseguire obiettivi di disporre di un insieme integrato di dati relativi allo stato della segnalitica stradale al fine di ottimizzare quindi gli interventi di manutenzione e attraverso quindi la temperatura ambientale, le condizioni climatiche, poter programmare interventi straordinari. Il valore aggiunto quindi è il real time di fruizione dell'informazione al fine di un intervento tempestivo di manutenzione e di ripristino. Questo ovviamente con ricadute ed effetti importanti sulla sicurezza stradale in quanto ovviamente l'efficienza e il buon stato della segnalitica stradale sono elementi fondamentali per garantire sicurezza nella visibilità e minimizzare la frequenza e la gravità degli incidenti. Ulteriori sviluppi secondo me potranno esserci con una mappatura e una sensorizzazione diffusa dei cartelli stradali presenti anche in zone sensibili e ad alta incidentalità oppure in altre zone soggette ad esempio a ghiacciatura e anche qui il tema di riferimento come vedete rimane sostanzialmente quello della sicurezza stradale. Dopo questo progetto pilota che ha visto coinvolto il settore della segnalitica stradale da prima diffidente perché come vi dicevo da anni andiamo avanti a partecipare a gare e non ci siamo abituati a pensare in maniera più innovativa. La fase di sviluppo e di commercializzazione secondo me su questo tipo di esperienza è assolutamente una strada da percorrere. In riferimento a questo sicuramente le amministrazioni comunali sono il target principale per promuovere il servizio di monitoraggio dello stato della segnalitica stradale sull'intero territorio. Dobbiamo quindi promuovere e commercializzare tale servizio strutturando accordi di partnership e intervenendo sugli aspetti testati durante il progetto pilota da cui è emerso che potremmo disporre di una piattaforma aggiuntiva come ad esempio sistemi di alert personalizzabili in base alla sensoristica che potrà essere ampliata quindi anche a tutti quei sensori disponibili specifici in base alle esigenze riscontrate all'interno del progetto per poter soddisfare determinati requisiti. E quindi le funzionalità possono essere varie calibrate anche sulle richieste del cliente. Chiudo dicendo che all'interno della mia cooperativa quindi all'interno di Secop abbiamo attivato subito e coinvolto subito fin dall'avvio del progetto le nostre funzioni tecniche, i nostri responsabili di settore e le nostre funzioni operative. Il terzo settore da questo punto di vista o meglio la mia realtà poi non so se vale per tutti è un po' meno reattiva rispetto ai cambiamenti, è più ancorata ai servizi tradizionali e quindi l'intera organizzazione va accompagnata partendo in primis dai responsabili dei nostri settori produttivi ma devo dire che dopo alcune spinte iniziali noi poi ci contraddistinguiamo per l'impegno e la perseveranza per il risultato. Io avrei completato l'intervento. Perfetto, grazie mille. Mi scuso ancora per il problema nel cognome. Ma si figuri, ci mancherebbe. Ho già passato al controllo a un ingegnere Palazzoli, Pierpaolo, di A2A e abbiamo iniziato a vedere qualche... Mauro Quartini ci ha dato già qualche indicazione su possibili applicazioni delle dispositivi IoT, diciamo atipiche. Normalmente siamo abituati, tra virgolette, a si parla di IoT in aziende, in industria, eccetera, eccetera, e queste applicazioni che lei ci ha mostrato adesso sono quanto meno diffuse rispetto alle altre classiche che vediamo in giro. Quindi è interessante vedere anche come la IoT sia molto più pervasiva di quello che noi pensiamo e che possa avere sbocchi diversi. Quindi ricordo che se avete domande c'è sempre la chat a vostra disposizione e lascio la parola all'ingegnere Palazzoli. Salve, buongiorno a tutti. Sono Pierpaolo Palazzoli, mi occupo per la 2A Smart City, dello sviluppo all'interno dello Smart City Lab e di soluzioni innovative in ambito IoT e in ambito applicativo. Allora, la nostra prerogativa è chiaramente portare innovazione all'interno di start-up, piccole e medie imprese pubbliche amministrazioni, creando un polo innovativo all'interno del campus di Brescia dove un team di ingegneri esperti sviluppano soluzioni integrate nell'ambito dell'interno delle cose. La tecnologia trasmissiva alla quale ci siamo applicati ormai da 4 anni, che è una prerogativa, è una prerogativa, è una prerogativa per la sua capacità di pervasività. Come è fatta la catena del valore di una soluzione IoT? Chiaramente è composta da quattro macroelementi che compongono la soluzione. Il primo è il sensore, cioè quell'oggetto che tramite i trasduttori immagazzina le informazioni e le trasmette alla rete con un'emissione reale. Il gateway è in grado di raccogliere l'informazione captata dall'aria e renderla una stringa esedicimale, quasi incomprensibile. Il network server, che è il gestore della rete, governa l'autenticazione, la sicurezza e l'accesso a queste informazioni. L'application server diventa il gestore del dato, quindi sostanzialmente il flusso dati è da un'emissione radio, o meglio da una misura fisica, altra contribuibile. Quindi il primo elemento che noi sviluppiamo all'interno del Smart City Lab, dato che il Lab è un centro di sviluppo di software, chiaramente, è il network server, frutto dell'acquisizione di una spin-off dell'Università di Padova chiamata Fatavina, Fatavina è il nome latino per chiamare Cittadini di Padova. Abbiamo mantenuto il brand perché ha due attività, chiaramente, per sostenibilità, mantiene sempre il territorio a primo valore. Tale software, scritto completamente di pugno dagli ricercatori della spin-off, scritto in C++, incarna lo standard dell'Orawan in tutte le sue caratteristiche tecnologiche che vengono qua riscritte nella parte di sinistra. Quello che interessa a noi in questo convivio è chiaramente le sue caratteristiche business-driven e quindi la capacità di coprire grandi spazi territoriali, fare in modo che i sensori consumino veramente poco e quindi possano essere abbandonati per diversi anni, essere sicuro, quindi non intercettabile, ed avere un costo sostenibile che possa essere la leva per ridurre o aumentare la reddittività di un caso d'uso. L'application server è nato, è l'ultimo nato nei nostri sviluppi, altro che non è un grande bacino di informazioni organizzate per tipologia di sensore e tipologia di clienti dove il dato da una stringa del sedesimale viene trascodificato e reso dato disponibile immagazzinato. Tale luogo non è il luogo dove nasce il caso d'uso, è solo un punto di accesso semplificato ai nostri clienti e partner in modo che poi questi dati diventino una leva per fare un verticale che possa aiutare a creare un valore all'interno di un processo. Come si vede di sinistra diverse tecnologie, ormai siamo da diversi anni nella API Economy, quindi tutto deve essere necessariamente. Tutto per atterrare a un concetto, ormai è noto che l'IoT non è più un'innovazione dal punto di vista tecnologico, ma a mio avviso è l'opportunità. Questa opportunità deve diventare a gioco forza un servizio, perché come diceva, sono prima i colleghi, non si parla più ormai di tecnologia, ma si parla di servizi. I servizi sono quegli strumenti che permettono alle città, alle land, piuttosto che ai distretti, di diventare più efficienti ed efficaci per rendere la vita meno stressabile. Quindi l'IoT is a service è un concetto allargato dove il sensore è un servizio e lo diventa grazie alla catena che abbiamo raccontato. I casi d'uso che volevamo raccontare oggi, che sono in linea a ciò che si parla della sicurezza, sono un po' più generalizzati, poi capiremo come l'abbiamo creato. Quindi la smart road, la logistica e l'edificio. Uno dei primi elementi, chiaramente, è la fidabilità, il monitoraggio dei ponti. Questo è uno dei casi d'uso più di effetto che l'IoT porta a valore. Non è ancora applicato in una maniera sistematica ed intelligente, perché pone anche delle questioni abbastanza interessanti di responsabilità. Il dato di fatto è che ci sono diverse start-up sul territorio nazionale, anche perché noi come Spassi di Lab prediligiamo sempre il prodotto italiano, che sono in grado di creare un check-up dinamico o statico chiaramente di punti e sottopassi. Il caso d'uso vuole che questi tipi di strumenti allertino in caso il ponte abbia dei problemi. Vi faccio un caso semplicissimo che mi è stato raccontato. Il ponte è come se fosse una corda di una chitarra. Fino a quando suona bene, il sensore dice no problem. Quando una chitarra è scordata, vuol dire che il ponte ha un problema. Il monitoraggio dei punti viene fatto con una start-up in Firenze, che ha un dispositivo molto interessante e chiaramente usa una tecnologia LoraOne. Loro hanno questo concetto di certificazione dinamica e non statica, perché evita successivamente a una parte dell'ingegneria civile di avere un'interpretazione troppo barocca dei dati. Noi abbiamo fatto una sperimentazione presso il BOCA di Brescia, dove abbiamo invece applicato sensori con tecnologia statica tipicamente tensimetrio e quant'altro. La interpretazione dei dati è complessa, quindi il fattore di responsabilità è complesso. Chi decide che quell'edificio ha un problema? Invece la certificazione dinamica, come raccontavamo prima della corda, ha il suo valore. Quando la corda suona male, la bandierina viene alzata. Un secondo caso d'uso, questo chiaramente abbiamo giocato in casa, perché all'interno del gruppo 2A esiste un gruppo della protezione civile. Abbiamo aiutato i colleghi a tracciare i mezzi durante l'emergenza. Questo perché? Perché chiaramente non è tanto la tecnologia che aumenta la capacità di questo tipo di use case, perché poi se ne è fatto con tantissime tecnologie anche mobile. Era il caso d'uso di interesse perché al responsabile della protezione civile interessava a sapere, postumo, chi aveva dei volontari usati i mezzi per che tipo di soccorso, per mappare nell'eventualità di casi non gravi, i costi accessori all'uso dei mezzi stessi. Chiaramente benzina, autostrade, trasporto. Questo avviene anche chiaramente per i soccorsi delle varie produci Rus e Bruno e questo serve da 2A perché chiaramente sconsorizzando questo gruppo aveva una capacità, una pervasività maggiore. In più, nell'emergenza virus, chiaramente ogni operatore poteva sapere se c'era un collega in una zona vicina rispetto a vicino a un problema che poteva applicarsi in maniera rapida. Abbiamo creato il caso d'uso generando un po' di user experience e sapendo il percorso, la direzione, la velocità e il numero di giri e il consumo stesso. Quindi è un caso d'uso che poi sarà anche applicato a manutenzioni predictive o a contrattualistica magari legata alle manutenzioni stesse o piccine o grandi sistemi. Sempre sui mezzi, queste sono le varie visualizzazioni. Il tracking e l'inventario dei industriali l'abbiamo creato molto più ampio che comprende anche il caso d'uso dei cartelli di cui parlavo prima seco. Perché? Perché il geofencing che non è come il caso precedente, la tracciatura in tempo reale dell'oggetto può essere anche una localizzazione per il tipo l'asco o un cambiamento di stato. Quindi il cartello cade, l'accelerometro scalibra e i gateway di zona rispondono e quindi dicono che in quella zona c'è stato un problema, chiaramente poi visivamente uno riesce ad applicarsi. Applicato poi all'industria è la famosa geofencing a zone, il famoso localizzazione indoor piuttosto che localizzazione stimata. Quindi in un processo produttivo ci sono quattro zone e sapere se l'otto 27 nella zona 1 o nella zona 25 allora ha un valore. È un valore per predirle quando questa cosa verrà prodotta definitivamente piuttosto che sapere i costi residui o affinora da affrontati a produrre questo tipo di oggetto a livello di tempo. In più è applicabile, e stiamo lavorando con grandi società di logistica, per introdurre un elemento di controllo automatizzato del processo della logistica stessa, che è clasterizzata. Facciamo un esempio sulle nostre poste nazionali, per essere semplici. Le poste nazionali possiedono delle scatole di primo e secondo livello, chiamate scatole gialle, che abbiamo visto più molti video in televisione, che contengono a loro volta un numero di oggetti. Il valore è sapere come nel lotto di produzione, come nel caffero stradale, se questa scatola gialla è nella zona di Brescia piuttosto che nella zona di Brescia. Questo valore chiaramente è legato all'efficientamento, quindi alla perdita di asset, al furto di asset o l'utilizzazione del lavoro degli operativi nella fede. Quindi una gestione di un inventario automatico, un calo dei tempi infermo e una riduzione dei tempi di produzione. Questo è applicabile a qualsiasi tipologia di oggetto grazie alle caratteristiche peculiari che aiuti a basso consumo, con sensori d'ora e quindi con la possibilità che possano durare anni, da un prospettivo, quindi un investimento che si spalma sul processo che magari può durare anche per qualche anno, 4-10 anni. Ho concluso, vi ringrazio, lascio una parola. Grazie mille, grazie mille. Allora abbiamo visto diversi esempi concreti di applicazione di soluzioni tecniche e di applicazioni in campi molto diversi tra di loro, quindi le applicazioni sono sia nella pubblica sia nel privato e quindi questi sono esempi molto diversi tra di loro che ci fanno avere un ampio ventaglio dell'idea e delle possibilità che ci sono in questo momento con la tecnologia IoT. Allora adesso vedo che Alberto Bonetti ha già condiviso il proprio schermo, quindi gli do la parola. Cosa vedremo adesso? Vedremo, prima abbiamo visto un po' di tecnologie e possibili applicazioni, adesso vedremo dei contributi o finanziamenti o strumenti economici che possono aiutare nella integrazione di queste soluzioni all'interno del proprio business e delle proprie attività. Prego Alberto. Va bene, grazie, buongiorno a tutti. Mi puoi confermare che si vede allo schermo? Sì, assolutamente. Ti vediamo e ti sentiamo. Allora buongiorno, sono Alberto Bonetti, gestisco all'interno di CSMT un'area che si occupa di finanziamenti. Perché parliamo di questo tema? Perché cerchiamo sempre in CSMT di accompagnare discussioni, analisi che nascono da bisogni delle imprese, delle istituzioni, delle realtà che lavorano con noi e fanno perno su soluzioni e approcci di tipo tecnologico. Cerchiamo di accompagnare questo anche con alcuni possibili strumenti di supporto che possano rendere l'unione dei bisogni con le opportunità per soddisfare questi bisogni ancora più facilmente declinabile se trovano, in qualche caso, l'abbiamo sentito anche negli interventi che hanno preceduto il mio, se trovano insomma delle fonti di finanziamento e di supporto che possano rendere l'applicazione insomma più agevole e anche più facilmente insomma implementabile. Visto il tema dell'incontro di oggi, quindi io parlerò di alcuni strumenti che fanno soprattutto perno e che possono accompagnare progetti che utilizzano le tecnologie di cui abbiamo parlato finora in questo webinar le slide sono diverse ma resteranno agliati, io mi limiterò a sottolineare gli aspetti principali di tre strumenti di cui parliamo questa mattina, alcuni di questi sono ben noti il primo Union Camera in Lombardia che è uno strumento di finanziamento che come vedremo è già stato anche menzionato dal CEO da Quartini di Secop, è uno strumento che è ben noto e che ha supportato anche progetti che sono stati presentati appunto da Secop pochi minuti fa parleremo di smart working, impresa digitale, strumento camera di commercio ma legato più a Brescia poi un brevissimo accenno semplicemente per ricordare che le soluzioni innovative, le soluzioni 4.0 possono anche dare adito a crediti di imposta che possono facilitarne la declinazione partiamo dal primo, lo primo è un bando di finanziamento attualmente aperto promosso da Union Camera Lombardia quindi la realtà geografica della Lombardia, lo scopo è sviluppare soluzioni, prodotti e servizi innovativi che fanno perno sulle tecnologie 4.0, diverse dai servizi di cui abbiamo sentito poco fa rispondono a queste caratteristiche, sono rivolti, questo è uno strumento che è rivolto a piccole e medie imprese o anche micro imprese, quindi non è rivolto alle grandi imprese, devono essere imprese residenti in Lombardia e devono diciamo declinare queste tecnologie in connessione con quelli che sono chiamati soggetti altamente qualificati poi vediamo di cosa si tratta l'obiettivo è intuibile, quindi stimolare il trasferimento di soluzioni e tecnologie che siano a supporto, che siano diciamo 4.0 dopo vedremo anche cosa si intende con questa definizione e che possono migliorare la competizione delle aziende in tantissime filiore tra le quali anche lo smart working, le filiere produttive e ovviamente la risposta a Covid però il bando è ben più ampio insomma, anche se ovviamente ha delle sottolineature che vogliono facilitare e invitare la presentazione di progetti che in particolare rispondono alle esigenze che sentiamo in questo periodo in modo particolare ecco, la sostenibilità e anche la parte green è che comunque è un altro elemento molto importante in questo strumento, quindi che verrà premiato in modo particolare cosa si tratta? Allora gli interventi ammissibili sono la sperimentazione, la prototipazione con l'obiettivo di mettere sul mercato soluzioni, applicazioni, prodotti, servizi che rientrino o che facciano uso di una serie di tecnologie 4.0 che sono molto ampie, qui vediamo una prima lista ma come vedete sono terribilmente ampie si passa dalla robotica alla stampa 3D, la manifattura additiva, prototipazione rapida realtà virtuale, realtà aumentata interfaccia uomo-macchina sistemi cyber fisici che hanno all'interno tutto quanto insomma che connette l'uomo con le macchine si parla di internet delle cose, cloud, computing, cyber sicurezza business continuity, big data, supply chain, ottimizzazione processi zendali, intelligenza artificiale, blockchain, insomma direi che c'è davvero tanto all'interno della definizione 4.0 così come viene interpretata da questo bando non solo, ci sono poi anche applicazioni un attimo che vediamo come è ok anche applicazioni più tradizionali anche se comunque sono una componente agevolante insomma delle 4.0 quindi sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento geolocalizzazione ovviamente nessuno si attende che un progetto tratti più di un settore è sufficiente che un progetto tratti uno di questi settori per poter essere insomma preso in considerazione all'interno di questo bando un bando che appunto conosciamo abbastanza bene già Quartini di Secop ha sottolineato quanto il progetto che abbiamo avuto il piacere di coordinare ormai un paio di anni fa sullo stesso tipo di bando che riuniva le tre realtà che è stata menzionata Secop, RJ e il Gesso si sia posizionato con CSMT che ha avuto appunto il piacere di essere coordinatore della proposta in sé quindi il strumento per presentare la proposta in sé si è classificato primo all'interno di una lista di più di un centinaio di progetti il contributo non è altissimo però comunque di un certo interesse può arrivare a 50.000 euro come contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi ammissibili quindi sono progetti diciamo di media piccola taglia chiamiamolo così ma all'interno di tecnologie di questo genere comunque lasciano un buon agio per sperimentare nuovi approcci o comunque approcci originali rispetto al settore in cui si vengono applicati costi, quali tipo di costi vengono accettati vengono accettati i costi appunto erogati di consulenza erogati da fornitori qualificati non è solo CSMT che abbiamo indicato come esempio ma per esempio rientrano anche le grandi imprese la stessa Smart City è uno di questi piuttosto che anche start-up innovative e altri centri di ricerca diciamo certificati dal ministero oppure costi di formazione ancora una volta da fornitori qualificati CSMT ma anche altri che fanno parte degli albi ufficiali investimenti in attrezzature quindi in hardware e in software che sono disponibili sul mercato in sé piuttosto che investimenti in hardware e software che vanno sviluppati in modo customizzato e in questo caso ancora si deve fare riferimento all'elenco dei fornitori qualificati spese proprietà di tutela della proprietà industriale e spese di personale della azienda che hanno un qualche vincolo che bene o male come vedete dalle formulette sotto diciamo che limitano più o meno tra il 20 e il 30% il costo del personale interno che si può spesare il resto deve far far parte o di consulenza o di hardware di software o di formazione bene la scadenza entra non moltissimo tempo anche se la procedura è abbastanza leggera quindi la si può gestire con buona insomma ancora con buon agio se interessa è il 30 di giugno i costi saranno elegibili e lo sono già anche retrodatati da marzo fino a luglio dell'anno prossimo è una procedura valutativa e quindi vuol dire che raccolgono tutti le richieste di finanziamento entro il 30 di giugno ne danno una una valutazione qualitativa un punteggio e poi finanziano quelli che hanno passato il punteggio insomma che è considerato il minimo accettabile entro il 30 di settembre verranno annunciate i progetti che otterranno questo contributo bene un secondo invece è un più più piccolo se vogliamo in termini di dimensione e anche in termini di focus comunque in via breve e senza dubbio merita attenzione è un contributo camera di commercio di Brescia quindi parliamo ancora di ambito camerale ma non più a livello lombardo ma a livello bresciano qui ci sono 3-4 misure sono bene o male tutte ruote intorno a smart working e la diffusione delle tecnologie digitali all'IoT quindi l4.0 è fortemente il benvenuto parla di contributi a fondo per tutto anche in questo caso un po' più contenuti come vedremo tra un attimo in termini di valorizzazione che comunque fanno riferimento a costi diciamo sopportati dalle aziende nel corso del 2020 quindi da gennaio a dicembre del 2020 ci sono diverse misure alcune finanziano come la misura 1 da un contributo a fondo perduto per servizi di consulenza di formazione mirate però allo smart working e anche all'acquisto di strumenti per lo smart working la misura 2 scusate se vado un attimo veloce ma le slide poi saranno disponibili potrete ovviamente sia fare domande a valle del webinar e o anche in seguito misura 2 è forse quella più interessante anche perché è quella più ricca e quindi da contenuto a fondo perduto per consulenza per formazione in tema di digitalizzazione queste sono consulenti e formazioni che possono essere fornite da diciamo da erogatori anche in questo caso qualificati ma con una qualifica più ampia rispetto al bando Union Camera Lombardia per esempio tutti quanti sono stati registrati certificati dal Digital Innovation Hub sono dei fornitori elegibili per quanto riguarda la consulenza e la formazione che può essere erogata all'interno di questa misura 2 che comprende anche tra l'altro anche questa hardware e software per la digitalizzazione c'è una terza misura che parla che dà contributi per in particolare per la parte di siti web e-commerce web marketing insomma per la presenza web della azienda una quarta misura la misura 4 che parla di antintrusione videosorveglianza sicurezza in termini in termini proprio fisici insomma telecamere e altri strumenti per la sicurezza aziendale l'ultima misura mi sembra sia l'ultima almeno riguarda anche l'abbattimento di consumi energetici e impatti ambientali bene questi questo riguarda poi tra l'altro nel dettaglio ci sono diverse attrezzature che ottimizzano i consumi energetici che sono eligibili e i beni hanno comunque tutti una caratteristica di tipo digitale devono avere delle tecnologie digitali o di controllo di uso o di monitoraggio quindi l'elemento digitalizzazione è sempre presente all'interno delle misure di questo strumento di camera di commercio dicevo chi può fornire i servizi come vedete è abbastanza molto più ampio rispetto allo strumento precedente il parco soprattutto si aggiungono appunto quanti sono riconosciuti dal Digital Innovation Hub i centri di ricerca con trasferimento tecnologico incubatori e anche altre realtà che sono registrate sugli albi della formazione il contributo non è altissimo può arrivare comunque sommando le diverse misure 21.000 euro per azienda secondo le diverse misure si va dai 10.000 della misura 2 che era quella della digitalizzazione poi si scende a valori un po' più bassi per le altre per le altre misure quindi contributi non particolarmente alti ma comunque pratiche abbastanza snelle e contributi che vengono sempre concessi a fondo perso pari al 50% dei costi che vengono assunti come ho detto prima i costi possono essere diciamo assunti lungo l'intero arco del 2020 le domande sono aperte a sportello questa volta non a valutazione fino alla fine dell'anno sportello quindi quindi verranno lo sportello è aperto la dotazione finanziaria è buona quindi si presuppone possa restare aperto ancora per un buon periodo fondamentalmente tra l'altro la domanda di contributo la si può emettere solo a consultivazione cioè prima si assumono i costi e dopo si fa la domanda di contributo alla Camera di Commercio quindi le spese devono essere già state sostenute al momento in cui si presenta la domanda l'ultimo tema che faccio scorrere in modo abbastanza veloce so benissimo che è noto perché di credito di imposta si parla ormai da 5 anni dal 2015 anche se è cambiato un attimino veste però comunque vale la pena sempre ricordarlo perché qualche azienda che aziende che non lo conoscono ancora ce ne sono e quindi è opportuno sottolineare che in particolare per le tecnologie 4.0 che sono l'oggetto dell'incontro di oggi ci sono diversi crediti di imposta che sono attivi e che semplicemente ricordo in modo molto veloce in queste ultime poche slide il primo è quello ben noto credo imposta ricerca e sviluppo che è pensato appunto per stimolare ricerca lo sviluppo ma inteso anche come innovazione tecnologica accetta e accoglie in particolare progetti insomma che che vengono che ruotano intorno alle tecnologie 4.0 qui vi ricordo che si tratta di credito di imposta quindi non è più un contributo a fondo perso ma ancora meglio è un credito che si sconta sulle imposte qualsiasi tipo di imposta che viene erogata tramite F24 nell'anno che fa seguito alle spese è molto efficace proprio perché insomma va sull'ultima riga dei bilanci e alleggerisce i risultati finali dell'azienda molto meglio di un contributo a fondo perso insomma perché non è soggetto ovviamente a imposte se non credito di imposta tra l'altro si somma a qualsiasi altro tipo di contributo a fondo perso che può essere ottenuto sulla stessa tipologia di attività progettuale proprio perché non è un finanziamento è un credito di imposte quindi non va in conflitto con altre modalità di contributo di finanziamento il beneficio non è altissimo è stato abbassato nell'ultima quest'anno insomma nel 2020 ma è comunque un beneficio che ha delle caratteristiche importanti le percentuali potrebbero sembrare particolarmente basse il 12% in ricerca fondamentale il 6% fino al 10% in 4.0 però tenete presente che da quest'anno a differenza delle imposte dell'anno scorso queste percentuali vengono calcolate sugli investimenti complessivi che l'azienda fa in quel tipo di ambiti non c'è più nessuna comparazione o nessun calcolo in termini di spesa addizionale rispetto a periodi passati e quindi un 10% un 12% un 6% possono essere una percentuale che da adito un credito di imposta importante soprattutto per aziende che in queste tecnologie investono cifre che possono essere non marginali c'è anche un contributo sul design sull'ideazione estetica e c'è da dire che il credito di imposta come lo era anche nel passato vive soprattutto di attestazione della qualità della della ricerca e dell'innovazione che viene portata all'interno e quindi come sapete il credito di imposte ricerca e sviluppo perché quelli che lo conoscevano era in assoluto fino all'anno scorso è abbastanza ristretto sull'attività di ricerca così come vengono definiti di frascati da quest'anno ci sono percentuali più basse però c'è non solo un imponibile di costi maggiore come ho già detto ma vengono anche accolte le attività di innovazione cioè dove l'innovazione della tecnologia che viene presentata è misurata a livello di azienda e di comparto quindi non deve essere un'innovazione in termini assoluti e questo facilita molto e allarca molto lo spettro delle attività che sono illegibili comunque c'è la necessità di una certificazione tecnica CSMT svolge anche questo tipo di ruolo di una attestazione che ne identifichi le caratteristiche di diciamo di allineamento con i requisiti tipici del credito di imposta ricerca e sviluppo velocemente chiudo ricordando che ovviamente esiste anche quest'anno e continuerà a esistere ha cambiato semplicemente natura anche quello che è un credito di imposta per investire anche non solo in tecnologie in competenze in consulenza ma anche in beni industria 4.0 è ben noto si chiamava iperammortamento fino all'anno scorso da quest'anno è diventato un credito di imposta molto pesante molto importante e quindi arriva fino come vedete per investimenti fino a 2 milioni di euro al 40% del costo dell'investimento quindi è sempre uno strumento fortemente incentivante per l'acquisizio di beni strumentali e anche di tecnologie che accompagnano i beni strumentali di applicazioni industria 4.0 si parla di gennaio c'è sempre la necessità di una perizia tecnica CSMT svolge anche questo tipo di ruolo è una perizia tecnica che attesti la caratteristica 4.0 di questi macchinari che fondamentalmente come sappiamo bene tutti implica che questi macchinari debbano essere effettivamente connessi gestiti in modo remoto e con tecnologie 4.0 menziono solo che poi esiste anche un credito di imposta sulla formazione 4.0 quindi per accompagnare le tecnologie non solo con consulenze non solo con investimenti non solo con l'apparecchiatura ma anche con formazione sono crediti di imposta importanti perché vanno a coprire fino come vedete per piccole imprese il 50% del costo del personale che viene formato fino a scendere a un 30% per le grandi imprese ma sono comunque percentuali essendo un credito di imposta particolarmente consistenti e quindi con valori che possono che possono insomma raggiungere livelli senza dubbio molto interessanti esiste poi qualche altro credito di imposta per esempio per fiere internazionali al massimo fino a un 60.000 euro pari al 30% delle spese piuttosto che per le spese di tipo pubblicitario quindi per imprese che sempre su questi temi anche del 4.0 vogliono investire in campagne di comunicazione promozione disseminazione sono crediti comunque importanti perché arrivano al 30% del costo delle spese investimenti pubblicitari fatte tra l'altro durante il corso dell'intero anno e qui era stato tolto un tetto di spesa che c'era nella precedente versione che invece adesso è stato allargato io mi fermo qui e avrete ovviamente la possibilità di ottenere se vorrete le slide e poi di poter avere ulteriori dettagli in seguito se avrete interesse rispetto a uno o più di queste opzioni grazie ok grazie grazie Alberto allora è stata una bella panoramica sono tanti gli strumenti a disposizione sono tanti ancora ne usciranno probabilmente nei prossimi mesi e quindi questi strumenti devono essere sono e saranno uno strumento per poi aiutare le aziende ma anche a realizzare tutti i progetti di cui abbiamo parlato precedentemente quindi assolutamente la cosa tenendo conto che è un po' complessa e che fare una lista sembra sempre un po' asettico e quindi è anche per questo che il ruolo del CSMT è quello anche di dare come abbiamo fatto con l'esempio precedente con SECOP supporto nel individuare lo strumento migliore per realizzare l'innovazione all'interno dell'azienda innovazione che può essere fatta con tutti gli strumenti che abbiamo visto precedentemente quindi ci sono alcuni punti di riflessione che volevo magari proporvi che mi sarebbe piaciuto avere la vostra opinione per esempio una cosa che mi è venuta in mente in cui avete parlato in chat ci sono stati un paio di appunti a riguardo è il fatto cerco di riassumere un paio di discussioni sulla chat che queste tecnologie IoT danno possono essere applicate abbiamo visto applicazioni molto diverse tra di loro forse c'è mi pare di leggere tra le domande la presunzione non la presunzione l'ipotesi che queste tecnologie IoT siano risolutive di per sé e non si fa molto riferimento magari alla parte di formazione o di know-how o di conoscenza che è necessaria per poterle utilizzare in maniera opportuna adesso mi viene in mente l'esempio classico che è stato portato prima dei ponti in cui i sensori si danno una lettura ma che questa lettura deve essere poi interpretata e lo stesso un po' per tutte le altre gli altri sensori di cui abbiamo parlato dai cartellonisti eccetera l'informazione il dato di per sé deve essere poi trasformato in un'informazione utile e anche Giancarlo Turati prima parlava di formazione anche se era più relativa alla sicurezza eccetera però che le tecnologie IoT da sole funzionano sono a servizio delle persone quindi le persone devono essere in grado di utilizzarle in maniera opportuna altrimenti a poco servono allora volevo da parte vostra scrivere una una riflessione su questo spunto e per dire sulle prossime possibili applicazioni IoT che possono essere più pervasive o di utilizzo delle persone quindi diciamo utilizzo per la pubblico e quindi conseguentemente la formazione è la consapevolezza che è necessaria per poterle utilizzare non so se voi avete dei commenti riguardo se Giancarlo ti ha qualcosa su questo punto perché la formazione l'avevi nominata tu anche se sulla parte di sicurezza eccetera allora personalmente ritengo che anche con gli sviluppi che in questo momento sono stati previsti e sono avvenuti all'interno della tecnologia ma anche per i cambiamenti che sono in atto riguardo all'utilizzo di applicazioni e strumenti digitali sia fondamentale la parte formativa non solo orientata alla sicurezza per esempio quanto anche alla gestione dei dati alla data governance allo studio di sistemi per ottimizzare i processi e le procedure noi abbiamo assistito in questo periodo a una limitazione progressiva delle libertà personali che ha comportato tutta una serie di disagi ma che poi si sono tradotti e si traducono anche in una maggiore attenzione a quelli che sono per esempio gli spostamenti delle persone le distanze che devono rimanere le traccettature di dove sei stato con chi sei stato eccetera tutte cose che in ambito emergenza abbiamo accettato di buon grado fuori dalla emergenza bisognerà in qualche modo gestirle e in questo ambito sicuramente gli aspetti formativi sono importanti così come tutto il capitolo relativo allo smart working ma oserei dire anche tutta quella parte che riguarda la scuola avrà necessità di una formazione forte riguardo all'utilizzo degli strumenti perché francamente ne abbiamo visto un po' di tutti i colori ma ripeto abbiamo reagito bene perché siamo passati da una media del 40 all'80% di utilizzo dello smart working quindi questo è stato un salto quantico nell'ambito dell'uso di questo tipo di tecnologia anche da parte della scuola certo che adesso bisognerà ricondurlo all'interno in un perimetro codificato e ordinato perché ovviamente altrimenti rischiamo di mandare a patrasso tutto tutti questi aspetti si devono coniugare da una parte con delle regole precise non troppo complesse e in questo noi italiani sono spettati a far casino sulle regole e dall'altro anche con un utilizzo degli strumenti consapevole e questo ovviamente presuppone un ambito formativo importante perfetto quindi la parte di formazione è assolutamente necessaria poi hai nominato la scuola ma qui apriremo un argomento potremmo stracquare un paio di altre orette quindi rimaniamo sull'IoTL e l'emergenza il altro argomento che è stato accennato durante la presentazione abbiamo visto dei casi reali realizzati molto interessanti e concreti non so se sia Quartini che Palazzoli Quartini aveva accennato ma se avete delle preview o delle idee delle prossime applicazioni IoT che ci potrebbero essere che su cui state ragionando avete nominato qualcosa avete anche nominato servitizzazione del sistema di IoT stesso quindi avete potete dirci qualche possibile applicazione futura che potrebbe essere interessante che ancora non è stata fatta sarebbe interessante non riesco sono Quartini non riesco in questo momento a darlo il mio contributo ma mi riservo di portagliano nel senso che è uno di quegli aspetti su cui stiamo ragionando forte in cooperativa quindi sicuramente anche successivamente porterò il mio contributo ecco ci saranno news esatto ok non svegliamo le carte la cosa interessante è che queste tecnologie IoT poi si applicano come l'esempio che le ha portato a situazioni che uno normalmente non immaginerebbe esatto ma la cartellonistica è assolutamente emblematico no devono coniugarsi con davvero con le attività e fare in modo da rendere sempre più competitiva le attività che già oggi eroghiamo quindi è importante da questo punto di vista davvero riuscire a l'ipotesi a buttolino gestiamo dei parcheggi capisce che da questo punto di vista anche lì potrebbe essere studiato qualcosa ecco mi diventa più difficile pensarlo sui servizi che eroghiamo oggi facciamo un recapito postale dove già geolocalizziamo il portalettere e la busta in fase di consegna facciamo un servizio di rilievo dei consumi dei misuratori e già oggi geolocalizziamo il come dire il punto dove si trova il contatore e fotografiamo e quindi il misuratore stesso oltre a inserire il dato rendiamo disponibile all'utilities anche in caso di cliente che possa lamentare un dato rilevato sbagliato abbiamo la più multifoto che va a certificare il dato rilevato quindi sui servizi che eroghiamo oggi diciamo che almeno su questi diventa difficile fare un ulteriore ragionamento ma come diceva bene lei non come dire nulla è impossibile la cosa molto interessante anche di tutti gli esempi portati che sono esempi di installazione di di iot e quindi di aggiunta tra piccolette di intelligenza di estrazione di informazioni su sistemi già esistenti nonostante ci siano tutti i finanziamenti già nominati prima per delle macchine nuovi macchinari ma il grosso delle attività possono essere svolte aggiungendo sensoristica e digitalizzando delle parti che magari digitali non sono i ponti cartellonistica informazioni parcheggi eccetera e quindi questo qua può essere una una grossa leva per migliorare le prestazioni aziendali o dei processi con la ripartenza sicuramente non è troppo economicamente impattante e probabilmente avrà un ritorno dell'investimento abbastanza rapido quindi le aziende e tutte le amministrazioni potrebbero pensare sicuramente in ottica di contenimento dei costi miglioramento dei processi non so se l'ingegner Palazzoli anche può non è coperto segreti professionali può dirci qualche progetto su cui stanno lavorando ma lo vedo online ma non non ci risponde ecco io con questi ragionamenti avrei un po' completato gli spunti che non sono arrivati dalla chat se non avete altri contributi da aggiungere in chat in questo momento non sta arrivando non mi viene richiesto nulla di particolare se avete delle domande siamo qua a disposizione però direi che abbiamo abbastanza esaurito gli argomenti secondo me vi ricordo che tutti i contenuti quindi le slide delle presentazioni verranno condivisi con via mail agli iscritti e che noi come CSMT e tutti i partecipanti e i relatori sono ovviamente a disposizione per poter rispondere alle vostre domande a eventuali proposte o idee progettuali per darvi un feedback o anche soltanto per capire come e se queste tecnologie di cui abbiamo parlato oggi possono trovare e sicuramente possono trovare applicazione per soddisfare i bisogni che in questo momento le vostre aziende le vostre amministrazioni le vostre realtà hanno se in funzione della a causa più che in funzione più troppo dell'emergenza sia come progetto aziendale per il proprio io con questo avrei concluso non so se avete qualcosa da aggiungere voi però mi riterebbe abbastanza soddisfatto quindi ho fatto poco meno di un'oretta e mezza quindi un webinar rapido ovviamente siamo a disposizione queste sono soltanto pillole un overview su quello che le tecnologie e le aziende che abbiamo fatto oggi possono mettervi a disposizione quindi diciamo che il grosso lavoro è da qui in poi siamo a vostra disposizione se volete contattarci avete tutti i nostri indirizzi vi contatteremo noi con i contenuti di questo webinar ringrazio tutti i relatori per il tempo che ci hanno dedicato e per il lavoro svolto e grazie mille per i contenuti per gli spunti ciao a tutti arrivederci a tutti arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti